Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anche oggi alle prese con la cucina. Ancora non mi sono arresa e oggi vi porto qualche ricettina fit che potete replicare anche voi a casa e ne faremo una per un piatto salato e un'altra invece per un piatto dolce che può essere una merenda o una colazione. Intanto per la ricetta salata ci serviranno delle carote, delle spezie, io utilizzerò queste qua che sono spezie miste anche con un pochino di sale, poi dello yogurt greco, uno spicchio d'aglio e dei ceci, semplicemente. Mentre per la ricetta dolce avremo delle proteine in polvere, io in questo caso userò le infusion elite che per me sono le mie preferite, però potete utilizzare anche le isofuji o le idrorasano o qualsiasi altra sia, e in più andrò ad aggiungere anche una banana. Quindi adesso iniziamo dalla ricetta salata e poi piano piano vediamo tutto quanto. Allora questa ricetta sarà una ricetta che va bene anche per i vegetariani, quindi va bene per i vegetariani ma va bene anche per chi cerca un'alternativa diciamo alla ricetta proteica con carne o pesce perché magari quel giorno non ce l'ha a disposizione o semplicemente non gli va oppure vuole un po' alternare. Quindi prima cosa che andiamo a fare intanto è tagliare le carote come se fossero delle patatine fritte, quindi non so come si chiama in realtà la forma. Come si chiama la forma? Secche lunghe. A chips, secche lunghe. Allora, carote tagliate ne ho fatti circa 300 grammi che le andrò a mangiare io questa sera e adesso accendo la friggitrice ad aria e le mettiamo in friggitrice. Quanto tempo? Io ragazzi non sono brava con queste cose, nel senso che io vado sempre ad occhio perché dipende quanto le tagliate spesse ci vuole di più o di meno. Quindi circa 20 minuti a più o meno 160 gradi, però ripeto ogni tanto controllatele perché non voglio essere responsabile di carote bruciate o carote crude. E ci aggiungiamo un po' di spezie miste, quelle che appunto vi dicevo prima. Ovviamente miscoliamo un po'. A questo punto mettiamo dentro, accendiamo circa 20 minuti a 160 gradi, però come vi ho detto controlliamo via via. Nel frattempo che le carote sono in friggitrice ad aria a cuocere, prepariamo la parte proteica, che comunque contiene anche un pochino di carboidrati, però la parte più proteica. E andiamo a fare un hummus fit. Voi dovete sapere che da quando ci siamo trasferiti a Dubai, io praticamente sono diventata una malata di hummus. Però il fatto qual è? È che quando lo andiamo a mangiare fuori, spesso e volentieri loro ci mettono un formaggio tipico di loro, che non mi ricordo il nome, taboulet, qualcosa del genere. Che è un formaggio molto grasso, a quanto ho capito. E quindi diventa, deve essere un piatto fit, diventa, perché sono semplicemente ceci, diventa molto grasso. Quindi in questo caso noi però lo andiamo a fare comunque buono, non come la ricetta originale, ma lo andiamo a fare più fit. Allora ho tolto l'acqua dai ceci, adesso mettiamo semplicemente tutto dentro, questi li mangeremo sia io che Gianmarco, quindi faccio tutto il barattolino. Mettiamo circa un cucchiaio di yogurt greco, un bello abbondante, uno spicchio d'aglio e sempre le nostre amiche spezie. Anche qui ragazzi abbondiamo. Poi logicamente voi dentro ci potete mettere anche altre cose, esempio, se non apro il tappo però la vedo dura. Ok, faccio un po' di pinta di niente. E voi ci potete mettere anche altre cose, esempio un goccio d'olio oppure del sale in più se preferite. Io per la nostra alimentazione il sale lo metterò crudo e idem per l'olio. Quindi chiudiamo. Mixer. Io dopo un pochino ci aggiungo anche un goccio d'acqua perché secondo me viene più buono. Chiudiamo. Ok, ovviamente la consistenza è a piacere vostro. A me piace questa consistenza qua, però se vi piace più liquido potete aggiungere leggermente più acqua. Questa è la consistenza nostra. Mentre finiscono di cuocere le carote vi ricordo che il nostro servizio di coaching online è sempre attivo. Servizio con il quale vi aiutiamo a rimettervi in forma. Oltretutto se iniziate un percorso con noi riceverete anche un fantastico file con tutte queste ricette. Se volete ulteriori info trovate tutti i nostri contatti qua sotto in descrizione. Ovviamente il servizio è aperto sia ai maschietti sia alle femminucce che verranno seguiti o da me o da Gianmarco. Se siete uomini da Gianmarco, se siete donne invece direttamente da me. Fatta la ricetta salata passiamo alla ricetta dolce. In questo caso andremo a fare uno smoothie con delle proteine, la banana e poi altri ingredienti che mi ero dimenticata. Del latte di mandorla, di questo qui, della Iuso, questo dell'Alpro che è senza zuccheri, senza niente, praticamente non ha calorie. E poi del ghiaccio. Potete volendo farlo anche senza la banana. In questo modo appunto se non avete carboidrato a disposizione. Viene allo stesso identico modo. Io metto anche la banana perché per me è attualmente la mia merenda e ho anche una banana. Quindi aggiungerò anche quella. Questo qua è un piatto diciamo uno spuntino che potete fare quando? Come dicevo prima, o a colazione, o nel pomeriggio, o a metà mattina, o come dessert. Insomma non c'è un vero momento della giornata, però essendo dolce io magari ve lo consiglio in queste circostanze. O anche come post workout. Quindi aggiungiamo del ghiaccio. Cubetti anche qua. Io vado ad occhio. Io vado sempre ad occhio ragazzi. Così. Faccio le cose a caso. Poi alla fine vengono fuori e siamo tutti più contenti. Comunque circa 5 cubetti di ghiaccio. 100 ml di latte di mandorla. Qui son precisa perché se ne mettete di più non viene, viene una roba liquida. Quindi 100 ml di latte. Anche un po' meno. Io ne ho messi 80. Poi mettiamo la banana. E adesso qualcuno rimarrà traumatizzato perché io l'apro all'incontrario. Lo so già. Mi sa che è arrivato un animale peloso che ne vale un pezzetto. Che è viziato. Ma non gli verrà dato. Ok banana. E poi metterò, aiuto, 20 grammi di proteine. Queste qua Infusion Elite Gusto Cookie di Yamamoto. Ovviamente vi ricordo che per qualsiasi integratore della linea Yamamoto potete utilizzare anche il nostro codice sconto che è Gianire e che vi scriviamo qua sotto. Se acquistate col nostro codice sconto ovviamente ci aiutate e ci supportate anche per tutti i nostri futuri video. Quindi mettiamo 20 grammi di proteine. Quindi a questo punto chiudiamo e come sempre amico frullatore e frulliamo. Qui attenzione perché schizza. Non l'ho attaccato. Ok. Ok. Allora dovete lasciarlo a frullare per un po' perché deve leggermente montare. Quindi ci vuole qualche secondo in più. Allora a questo punto pronto. Come vedete viene fuori praticamente una mousse. Se la frullate per un po'. Bellissimo. Mettiamo tutto nel nostro. Addirittura non c'entra. Cioè per farvi capire quanto è montato. Ovviamente ragazzi io ho messo la banana ma dentro potete mettere qualsiasi cosa. Che sia altra frutta. Che sia per esempio dell'avena. Proprio dell'avena. Che sia dello yogurt. Del burro d'arachidi. Cioè questi li potete adattare. A cosa preferite di più. Oppure. Farli appunto semplicemente con delle proteine in polvere. Che vengono nello stesso identico modo montate. Ovviamente cambia il sapore. Vi consiglio di prendere delle proteine che siano molto buone di qualità. Come quelle di Yamamoto. Che oltre ad avere un'ottima qualità. Sono anche molto buone di gusto. E in questo modo sembra veramente di bere. Non lo so. Uno smoothie. Ma è buonissimo. Ragazzi sono pronte le carotine finalmente. E appena tirate fuori dalla mia friggitrice. Qui abbiamo il nostro hummus. Adesso impiattiamo tutto. Io andrò ad aggiungere anche del pane arabo. Quindi del pane quello fine fine. Per aumentare la quota di carboidrati. E per quanto riguarda me. Andrò ad aggiungere anche un pochino di pollo. Perché comunque la mia quota di proteine attualmente è più alta. Però se siete vegetariani. Oppure non volete mangiare carne. Potete andare ad aggiungere. E vi mancano delle proteine. Potete andare ad aggiungere un'altra tipologia di fuori. Potete magari aggiungere dello yogurt greco in più. E così via. Quindi adesso impiattiamo tutto. Ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video. Ricette terminate. Mi raccomando. Se volete altri video di questo genere. Lasciatecelo scritto qua sotto nei commenti. Se avete qualche idea di altre ricette eccetera. Lasciateci tutto scritto qua sotto. Se provate a fare queste ricette. Fateci sapere se vi sono piaciute. Taggateci nelle vostre storie. Dove provate appunto a farle. Tutti i nostri contatti li trovate qua sotto in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.